Adesso vi invito a una cosa, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi. Immaginiamo quella scena lì, all'arrivo del fiume, Giovanni battezzando e Gesù che passa. E sentiamo la voce di Giovanni, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Guardiamo Gesù, è in silenzio, ognuno di noi dica qualcosa a Gesù dal suo cuore, è in silenzio. Guardiamo Gesù, è in silenzio. Guardiamo Gesù, è in silenzio. Grazie a tutti.